Una vera e propria sinfonia bianca-azzurra, il Gela rifila 5 gol ai cugini dell'Atletico ed approda la finalissima di domenica prossima in campo neutro contro il Troina per il salto in eccellenza. Ieri davanti a 3.000 spettatori, un lusso per queste categorie, i ragazzi di Toto Bruculeri hanno conquistato un successo strameditato giocando col coltello tra i denti. La compagine gelorossa di mister Simone Pardo si è sciolta come neve al sole nella partita più importante, fragile, evanescente, senza mordente. Insomma l'Atletico Gela, come si dice in questi casi, è rimasto negli spoglietoi. Bisogna comunque rendere merito al team presieduto da Cristiano Paradiso di avere disputato un campionato da vera protagonista. Dicevamo del Gela, i bianca-azzurri hanno dominato dal primo all'ultimo istante, già dopo pochi secondi si grida al gol. Passa poco e il Gela gonfia la rete, il gol, ed è il cecchino Rosario Genova. All'undicesimo c'è un fallo solare in area di rigore per i bianca-azzurri, ma l'arbitro lascia proseguire. Cinque minuti dopo, è il sedicesimo, all'arriva il raddoppio dei bianca-azzurri, a segnarlo è Alma. L'unico tiro nello specchio della porta per l'Atletico porta la firma di Leone, e bravo il portiere Pandolfo. Al ventisettesimo Genova segna la sua personale doppietta, 3-0. I bianca-azzurri ci provano ancora al 32esimo. Al 35esimo, quarto gol, a segnarlo è ancora l'attaccante Genova. Alla fine del primo tempo si è già sul 4-0. Nella ripresa ci si aspetta una reazione dei Gela Rossi, ma è solo Gela. Al nono, altra occasione per i ragazzi di Brucculeri. Due minuti più tardi ancora Gela in avanti. C'è anche un gol annullato ai bianca-azzurri per fuorigioco. L'Atletico si fa vedere dalle parti di Pandolfo intorno al dodicesimo, ma non è giornata. Alla diciannovesimo arriva Lamanita. Ascia su punizione, fa venire giù lo stadio. 5-0. Un pocherissimo che rimarrà nella storia del calcio locale. A fine partita abbracci tra i giocatori e tifosi in estasi. E domenica prossima appuntamento da non fallire. Gela merita l'eccellenza.